Condividi reazioni di tutti i giorni concrete ed efficaci per promuovere lo sviluppo sostenibile e contrastare i cambiamenti climatici usando la leva dell'edutainment tra prove ecolimpiche, laboratori di riciclo e visite guidate al Museo MAN. È in corso a Nuoro e terminerà il 20 ottobre la terza edizione delle Ricicliadi, campioni di buone pratiche sostenibili. Il progetto ideato dalla cooperativa Alternatura è finanziato da Fondazione Sardegna e dai Comune con il patrocinio del Comune di Nuoro. E interlocutori privilegiati anche quest'anno sono i giovanissimi delle scuole primarie, vera speranza dell'umanità per arrestare i danni ambientali ormai accertati. I bambini che partecipano sono impegnati in giochi eco-olimpici dove cercano di capire quali sono le conseguenze delle azioni di tutti i giorni in quello che è un mondo globale per cui l'azione che facciamo qui a livello locale ha delle conseguenze in tutto il pianeta. Uno dei tanti modi messi in campo dalle Ricicliadi per sensibilizzare i giovani sulle buone pratiche è un avvincente gioco di ruolo. In questo gioco loro diventano protagonisti e dovranno fare delle scelte e misureranno quanto queste scelte possono avere dei consumi in termini di energia e materia. E da lì il gioco di ruolo porterà una riflessione per capire che tipo di viaggiatori sul pianeta possiamo essere, viaggiatori responsabili e consapevoli anche a una giovane età insomma. E in coda alle Ricicliadi venerdì 20 ottobre si terrà la presentazione del rapporto di sostenibilità del Comune di Nuoro alla presenza dei referenti nazionali della Rete dei Comuni Sostenibili. Da parte dei bambini e dei ragazzi c'è voglia di cambiare, probabilmente loro hanno sovrastrutture ancora più leggere delle nostre, del mondo degli adulti e quindi hanno una disponibilità maggiore lì dove poi c'è un legame di cuore forte con la terra.